Un po' anch'io, ma fra un po' e so cosa fare... Cominciamo la finale, Love Live contro Madoka Scarto 4 Che banane Cambio 4 Pessima partenza Sì, mi sa che ce la facciamo in meno di mezz'ora Ho come questa impressione Bene, mi fa molto piacere Mi vedo adesso che settimana prossima Partenza peggiore di sempre Ah giusto, tocca anche a me tra po' Guarda la sua mano Guarda la mia mano Dopo aver già cambiato Pesco Ah beh, allora Uno, due Bene, vai Edo, non ho fatto niente Si è perso una tattica proprio Ma Dio, buono Un crocco Sì È stato Ricky Ricky, sei peggio della peste nera Sei peggio della peste nera Ho dovuto passare senza metterci un niente No, è affaccio No, è affaccio Se tu non fai niente No, è sì Questa è come quella dell'altra volta Questa è come quella dell'altra volta Questa è come quella del torneo scorso No, no, no Che fino al livello 2 non ho messo sul campo niente Se lo fai curi No, se sì Forse quello è un po' secondario E io c'ho a fare il stock Per giocare qualcosa Il problema è proprio quello, sì No, no, no Sai che non sono messo per niente bene comunque Ti faccio volentieri compagnia, guarda Vai Oh, no 8 8 E questo mi dà il masso nero Qua è il masso? Non c'è il masso nero Non c'è la peste nero, dai 2 C'è che diamo il bar che dura 2 Rendiamoci conto del livello della finale E' super E' super pessimo La mia è stata Una scavata Ma è il micro, no? Non riesco a fare un po' Non riesco a fare un po' Sì, non riesco a fare un po' Sì, non riesco a fare un po' Qualcosa riuscirei ad attaccare Sennò sei messo veramente peggio di me Sì, sicuramente Però, cioè Devo sprecare un sacco di... Quando questa è la palla No, non riesco a fare un po' No, non riesco a fare un po' Sì, non riesco a fare un po' Perché? E' veramente scandalosa sta cosa Sì, non riesco a fare un po' Sì, non riesco a fare un po' No, è bello, è bello E' attacco Beh Non è che io non lo faccio scendere Ma a vicino No, 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 a vicino Questa omura che c'ha il brainstorm Sì Zero Zero Già vai Sta tranquillo, sta tranquillo Avere a succede sempre In questa chiocco che ovviamente non può fare niente Sì, ok Non c'è da pagare E tutto dentro anche una madre Sì, va bene Che non può fare nulla Ok Non facciamo sempre sette Andavate un po' Sì, uno, due 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 Eh, però non mi ha tolto dei livelli zero È già una cosa positiva Uno, due Tre Ma, già li hai detto Vado? Vai A me già ha fatto il mio lavoro Continua a dire No Cos'è sta roba? Chiodi nelle mani Chiodi nelle mani Niente proprio Se non è il tuo alleato lo pì Se non è il tuo alleato lo pì Se non è il tuo alleato lo pì Cos'è sta roba? Eh, una volta è successo che ci siamo ammattati a me Non è successo così Perché? Perché deve imparare Eh, poi ci facciamo Un 3500 Un 3500 Non è il tuo 3500 No No, no Questo è 3500 Non so se sprecare una carta Ok, più spreca te tre Guarda Non faccio niente però adesso Però magari da dopo Qualcosa ci facciamo No, non sono stocco Non sono stocco Più uno sono tutti E una gialla nello stocco Ma che coglione Sacco Uno, due Tre Ok Quanti era quella? 3500 Scusa E Due, tre Quattro Molto male questo Molto bene Due alleativa Come si ha cominciato a capire Giustamente quando volevo annullare Annullasse Falla di vero E va bene No, vai nel Quando due Sei già lì No Sì, sei già lì Devi imparare Perché non poi rimane Non su ciò Non lo sai Anche una denza di lì Senti, vedo che vuoi Però Vai pure Questo ha girato Questo ha girato Sì Questo ha 5 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 Pesco C'è Pesco 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 Bella pescata Bella pescata Bella pescata Che sta facciamo Futuro Allora Mi ripassi i punteggi? 3,5 2,000 Ok Fa come Tutti che tempi oggi Mi avete mangiato il pane dei tetti in Colombo Buono Buono Le battutone Sì Con il baffettino Ok È inutile Da rame Ah Questo c'è un futuro Non ho carte Non ho carte È cominciato a capire qualcosa Magari Perché Ho bisogno di cura Sa chi sei No perché Come vuole Dice che La parte finale Se non hai danni Ti ne è inutile Ah E Quei dice Se non hai Dammi la vera Un po' di cose E Dice Se non hai Subisci Però Se Mi sarei meravigliato Delle contrarie Mi sarei meravigliato Delle contrarie Non ho vinto Quanto che il caso sei Non lo so io Va bene Due Vediamo tutti La viola Sì Buono Due Anche qui Tre Niente Io a suo punto Preferisco prenderli Sinceramente E va bene Sì Diamo Non riesco Per Dio Lourde Dov'è? Un po' di luce Attenzione Un po' di luce Nell'ombra Gioco lei Si salva Quindi gioca anche l'altra Ok A questo punto Dovresti aver capito tutto Allora Sono tutte più 500 Sono tutte più 500 Queste sono più Per questo Per questa Quindi 6, 5, 1,5 7,5 No 7,7,7 E questa invece Soltate 7,7 Soltate 7,7 Perfetto Sono facile Di fare conto Ah ma aspetta Siamo caricati 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Sto solo pensando come Sì 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 Dalmi il corbaccio Sì No No aspetta Io faccio il change Panda E siccome ho fatto il change Sto pensando No con questa No Con questa no Prendere in piedi qualcosa Ok Ok Quanto è quindi? Guarda gli impostori come guardano E Più mille più Solo a tutti Quindi Dicchierai così Ok Quanto è arrivata? 1, 2 E un 7,5 Dicchierai Boom Io mi ricordo Una volta Una volta Ero dei shadow Ero il capo Dei shadow No Hai fatto Per quale il personaggio Ma che si fa Torni extra Scusa Domanda Se c'è chi dalla fine Se non puoi subire Non puoi subire Non puoi fare E va bene Ci sono due punti Non posso fare Il secondo punto O il primo Diciamo che Il secondo punto Mi dice Se va bene Il primo Puoi fare Il secondo punto E questo Mi dice Se non puoi Ma fuori Non posso Il secondo punto Che vuoi Il secondo punto Allora non muoio Però comunque Non sono alcante Non devi passare a uno Ma devo passare a sempre Ma la passare a me Non è un curioso Ah ma allora Non devo farla io Ma no E allora ditemelo Perché cazzo Stavo pensando E passare Allora aspetta Questa durata Immagino 1, 2 E passa quello giusto Io lo so chi 7,5 2 Bravo Gino Niente Ansi Si sente felice Lì in fondo Ma è che stiamo iniziando a capire come si gioca Se c'è un ruolo di gioco E' meglio tardi che mai Puoi attaccare Puoi attaccare Dopo le calche Possiamo Allora Il nero sono io Il nero sono io Il bione è latino E il blu c'è tu E' abbassato molto molte E' abbassato molto molte No E' abbassato molto molte Attacco a chi è quello che c'è più da anni Giusto Tu sei qua C'è modo di recuperare la classifica Perfetto Mi è venuto un attimo di pane Mi servono più che altro quelli sotto Fuori dalla top Che mi servono per i punti Per la lega Sì Dopo la mano inguardabile dell'inizio Sì è rimata inizia Il cesso più cesso che esiste Ho fatto passato Senza fare niente Ho recuperato dopo Sì Questa è una 656575 Sì sì Mi voglio Questa? No Tipo la tema al culo Che ce l'hai già Ahà Noi vedi cos'è tre Mi servono Sì 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 Della prima Due Due Ah sì è vero Perché una c'è La schianto Sì Uno Un'altra La stessa infinita, c'è un altro nel caso in cui si, ok, mi colloco, ok, ma quanto sono forte, ma quanto, entro in Climax, un esperto musico che tanto non sa rosa niente, change a con, ok, E attivo il suo effetto, tappo pago uno, siccome ho fatto change, prendo mano al pezzo, sono spacciato, tappo, sono due, due, ah, gioco il backup, così me la sacrifico, io ormai è diventata, stava qui, stava tu muore, sono dentro solo per quella, sono due, ok, da capire si crede, va bene, tre, uno, due, uno, due, sono leonita, ai ai ai, due, sparta, buono, che ne ho? Non ne ho fermato. Non ne ho fermato. Grappa, grappa! Vado. Non so che vado a casa. Esco. Perfetto. Proprio quello che volevo vedere. Per essere proprio quello che serviva. Accidenti. Sennò non l'avrebbe fatto. Allora devo dire che qua devo cloccare. Clocco pezzo. Non è impossibile un altro che ho preso. Quello che vuoi. Il peggio. Ma allora dimmelo che mi vuoi male. Eh si. Sto proprio ribaltando la situazione. Sì. Effettivamente. Ribaltamento della situazione. Allora. Quanto è questa? Sette e cinque. Dieci e sei e cinque. E' una che mi posso tirare. Mi sembra già buona. Ma il problema è che... ...di mano un sacco di climb. Se non riesco a risciaffolarli dentro. E poi attacco lei. Non sei lì. Invece no. Invece no. Posso ancora tirare. Un colpo di scena. Allora. Cinque danni. Io ammazzo tutti. Non vuoi capire? Non vuoi capire. Non vuoi capire. Non vuoi capire. Non vuoi capire. A posto. 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 Prendi il 500 per ogni persona. Gio magico. Ce ne è un. Per ogni altro o per ogni cino? Per ogni altro. Penso sia per ogni altro. Per ogni altro. Ok. Poi. Mi ha fatto vedere la sua carte. E non l'ho attaccato. Io credevo che quello è giusto. E non la vuole capire. Quindi guardo la prima. Decido se mandarla in fondo. Altra. Tocca anche a me. Ok? Non ci crederai. E' un Climax anche quello Ale Champagne Allora vediamo come posso fare Se non è un Climax Quindi quando salgo Su pescarlo Quando pesco ne posso scartare un altro Quindi salvo almeno uno Cioè c'è tre Climax in cinque carte Dai non si può Vabbè già che ci sono Lo gioco Oh ragazzi uno Cosa faremo un po' di danni qua Un po' di intercassa niente Devo fare danni Sto pensando di si applicano anche i Q Sì 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 Io un 11.000 Senti lo mando in avanti Scelte discutibili Con Climax E allora Lasciamo stare Giallo e Ricky Stacco Ricky Cosa che non è mai successa No se è organico C'è una canna la pesca Con di merda Ok sono due Quindi pesca C'è quindi tu se hai messo sotto il Climax Si è ripescato il Climax Geniale Due C'è due Climax in seguito Ma puoi anche non pescare Vabbè potete anche non pescare Sì puoi Io ma Mai Giusto amici? Direi di sì Sì Poi questa ruona Sì Tranquilla giusto? Sì Voglia E se ti muove tutto a caso E ti spacca tutto a caso Non vuole niente Ah giusto perché prima c'è il nome di refresh Gente che gufa a caso Solo perché è arrivata ultima in un torneo E poi Segnaggiato Sì sì Non è un problema E' tranquilli Non vi preoccupate Va bene Quindi prende il danno di resciardo Almeno non è una madoka Un altro Climax E poi Triggero questa No aspetta Stai attaccando con la madoka ancora Cioè con la Con la Con la Con la Con la Sayaka Sì con la Sayaka Sono tre Ok Devo trigger Non ci credo Due Grazie Ok Basta Non ce ne sono più E poi vado a schiantarmi con questa Quando triggera l'attacco Rendo Giro E posso tenerla in mano Direi che la tengo Direi che potrebbe essere utile Scarto una carta No No Vai nella tua destra Scartarmi anche io Va bene Ci riprendiamo Mi dicono Mi sa che è finito il Climax Lo scagna in nero Lo scagna Lo scagna di volta così Ma c'è il Climax Pesco Pesco Quasi I panda I soggi hanno mangiato Prima E io Di giuro In realtà sono stati di giuro i panda Sì Un clorco No ma prima ne aveva fatto sotto Il tuo è un 10.000 adesso Il mio è un 10.000 Quattro in una E uno in un altro Il mio è un 10.000 adesso Che faccia di No Ma tu l'ha trovato Due ore Il posto che c'è Ricchia Io E io E tu E tu è da fuoco amico Mi entro in Climax Scarto Pago due Faccio il change Un'altra moncona che arriva Tra lei mi cura di uno Quindi attacco Sono uno due tre Chi è questo? Sono io Sono morto ormai Sono tutti Solo Climax Ne ho 16 Ne ho 16 Anch'io ne avevo 16 E a lui Stavo aspettando che mi voglio qualcun'altro Mi ripeto Un ginger È ginger L'antenne È genitario Ok Io non Grazie Grazie che non sei un clima Vabbè Mi muovo Stacco Uno due Tre quattro Due E ormai sono finiti le test Mancano due danni E attacco E gli do più mille Io Pecappo Pecappo La sacrifico Ok Questa è la cosa Questa è la cosa Questa va via Sono due Tre Picchia no Picchia no Tre Picchia no Picchia no Picchia no fly Dove una mano inguardabile Hai vinto come vincite sabato Io buono Tatti fuoco Ricky Un po' di gizzi Se lo metto in modalità foto Da me più o meno 12 Poi Tra te non so Dosso panda No 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 ma leggo Leggo Grazie a tutti per la giornata E Ricky Succa che è arrivato ultimo Dai un applauso anche per Ricky che ha aperto Dai Ma soprattutto una cosa ragazzi Un applauso per Emma che ha succhato Eccolo il nostro eroe Eccolo il nostro ero 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 Eccolo il nostro ero